A confine tra Abruzzo e Molise, Castiglione Messermarino è un paese di circa 3.000 abitanti, posto ad una quota di 1.100 metri sul livello del mare. La sua economia, un tempo prevalentemente agricola e pastorale, oggi si basa sul terziario e su una consistente manodopera artigiana ed operaia. In ambito socio-culturale si conservano cerimonie ed usanze rituali antiche, come quelle del carnevale. Tipica figura di questa festa è il Pulcinella, maschera un tempo assai diffusa nel Chietino. In una contrada di Castiglione, Sicaetano, il più anziano Pulcinella, aiutato dalla moglie e dalla figlia, si prepara il cappello. Grazie. Tu vedi questa è la canna che hai scelto per fare il cappello? Non hai? Stai a stucca a letto, ci faccio capire! Ma deve essere una canna nuova? Una canna noce, quella canna noce, non quella vecchia. Perché quella vecchia si può spartare? Quella vecchia si può spartare. Quella vecchia si può spartare. E che dava per un pardascio chi è il pardascio? Salisse. Poeste. Eh? E non posso dire. E non pavano poeste. E per il pardascio. Sì. Ma pure tuo nipote hai vestito la funcinella? Eh, lei non farà. E questo cappello per chi ha? Eh, per Vincenzo. Ah, per Gioia lo stai inserendo? Sì. Che ti riuscirà più le picche. Eh? Eh, ma questo ti riuscirà a fare nulla. E il cappello per fare il funcinella può essere alto come ti fate? Sì. Lo puoi fare a piacere tutto? Eh, però con una media cata chiesa. Perché tanti caldi manca punta. E quando si fa tanti caldi, se li portano vedi. E poi mi fa moire. La goccia se non vanno a pigliare n'altra. Guarda. Guarda. Aveva per tu le unco. Così? Eh, dopo me poteva buon cuore. Stiamo rupo. E' un segno. E' un segno. Ma tu non hai la metto. Ma tu non hai la metto? Ma tu non hai la metto. E' un segno. 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 Il segno grazie a favori di e allora. E' un segno. Stiamo a fare un segno grazie a shippedi. No. Tià siccome un segno grazie a voi. E' un segno's e in seppurna. E' un segno grazie a voi, incompetenti? Sì, allora la pomeriggia la puggicata, eh, se no non si puggicano. Scherla che è secca, la puccerò. Sì, allora la pomeriggia la pomeriggia la pomeriggia la pomeriggia la pomeriggia. Paggare la pomeriggia la pomeriggia la pomeriggia, che si la pomeriggia la pomeriggia la pomeriggia. Speravo che fanno. Schmerzo. E, tu hai riuscito, se tu è in modo da riusci. Ma, ma anestetà. Non, no. Fale. E, moro faccio. Mi stanno bella, faccio, faccio... E, graffa! E, graffa! Andiamo. In cui mi fa con un sacco? Cosa vuoi? Eh, il pomozzo, ci sono il pomozzo, non staccevo la buo. Eh, acqua, acqua, eh? C'è un'altra cosa, vive? Allora. Allora, vai uscita con il cordello, eh? No, ha tolna due giorni al che c'è abbordena polca, attraiamo. Fermi, ma chi te l'ha insegnata a fare questa regola? Mio marito. Tuo marito? Ecco. Perché tua mamma non le faceva? Eh, mia mamma dell'epoca, che era vecchia. Non lo faceva il cucinello? No, ma poi a casa tua il cucinello è un'altra parte, perché erano tutti fuori. Non voleva fare. Mesmo il cucinello. È, mia mamma. Non vedi IL frühmesio. Non vedi resmente. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti